Dottore Capocasale, sta cambiando qualcosa Crotone, soprattutto nei movimenti politici, visto che oggi fate questa conferenza stampa, ma per annunciare che c'è qualcosa di nuovo? Ma di nuovo su questo territorio paludoso della città di Crotone penso proprio di no. Noi come Movimento Crotone da Vivere, che fa capo a Calabria da Vivere, lavoriamo tutti i giorni a fianco dei cittadini, dei bisogni soprattutto dei cittadini. Noi abbiamo aperto le porte a un potere che si è perso nel tempo, che è quello dell'ascolto. E naturalmente cerchiamo di stare vicini a quelle che sono le possibili realtà e reali bisogni che si possono soddisfare. La politica è servizio del cittadino, servizio della cosa pubblica. Noi non abbiamo bisogno di progetti politici utilitaristici, personalistici. Quindi Crotone da Vivere è sempre presente dall'ultima competizione elettorale comunale. Abbiamo continuato a lavorare, a essere vicini a coloro i quali si vogliono impegnare. Moltissime donne, giovani, persone che hanno difficoltà nel mondo del lavoro, con difficoltà economiche. Quindi noi siamo un punto di riferimento sul territorio. Oggi l'adesione di un altro consigliere comunale al gruppo. Certo, un progetto che sta andando avanti dalle ultime comunali. E oggi il nostro candidato sindaco, Argentieri Antonio Piuma, ha deciso di stare al nostro fianco. E' entrato ufficialmente nel Crotone da Vivere, abbinando il suo impegno già dimostrato in campagna elettorale, ogni giorno come imprenditore, come uomo professionista, trovando una sponda positiva nel nostro lavoro. Quindi noi abbiamo lavorato da allora fino ad oggi con lui, in grande simpiosi. E oggi Antonio Argentieri Piuma fa parte di Crotone da Vivere. Piero Aiello a Crotone? Certo, è il coordinatore di Calabria da Vivere. E Calabria da Vivere raccoglie tutte le città, sia capoluogo di provincia, ma tutte le città della Calabria da Vivere. Quindi è un leader di rinomata professionalità, serietà. Anche lui a Catanzaro ha una segreteria aperta 12 ore al giorno, dove riceve chiunque abbia bisogno di parlare. Ed è la sua competenza che possiamo mettere in campo nel futuro dell'attività politica.